Cattino Mobley che di certo ci avrebbe tenuto a giocare a Philadelphia contro i Sixers di cui era tifoso da bambino Garrity con la serie Gran senso del tempo per Grant Hill che sorprende un po' il ricevitore il quale è Garrity Garrity poi viene messo in ritmo da Higgins, stavolta brutta difesa